Eccoci qui dal mio nuovo ufficio, ve lo farò vedere un giorno tutto bello, grande, come sta venendo e allora io vi sto facendo questo video breve per dirvi che nei prossimi giorni ci sarà una cosa meravigliosa allora lunedì, parliamo di lunedì 8 marzo e 8 marzo significa festa della donna ci sarà alle ore 21 un'importantissima meditazione di gruppo dedicata per l'appunto alla festa della donna ma io non dico altro, sarà tutta una sorpresa, però per farvi capire come dobbiamo organizzarci sabato uscirà un video, ebbene in questo video io vi spiegherò per filo e per segno come dobbiamo agire durante la meditazione per ottenere il massimo, il massimo per cambiare la nostra vita e ricordo anche che domenica alle ore 14.30 ci sarà la live domande e risposte mi raccomando condividi questo video, quello di sabato e anche ovviamente fai partecipare un bel po' di amiche alla meditazione di lunedì e anche amici perché attenzione non si tratta solo di donne si tratta di un qualcosa in più ma non dico altro, una grande sorpresa dal nuovo ufficio un abbraccio dal vostro Fabio Nezzac punto net